Sorpreso in flagranza mentre tentava di dar fuoco all'auto di un vicino, una Nissan Qashqai. I carabinieri hanno individuato e denunciato il piromane di via Tabanelli a Casier, dove martedì notte mani ignote avevano dato fuoco a sette bidoni per la raccolta della carta. I militari appostati hanno bloccato ieri sera un trentenne residente proprio in via Tabanelli, mentre armato di accendino e cubetti infiammabili, stava per appiccare il fuoco alla macchina parcheggiata lungo la via. Il giovane non ha dato spiegazioni per il suo gesto. In questi giorni era stato tra i più solerti tra i residenti della zona a chiedere informazioni ai carabinieri sull'andamento delle indagini. Ora dovrà rispondere di danneggiamento a seguito di incendio.